A A A padroni cercansi in un campionato senza squadre a punteggio pieno nei primi 270 minuti il quarto turno del torneo di eccellenza pugliese ha un cartello virtualmente affisso all'ingresso in vetta ci sono Ugento e Molfetta appagliate a 7 punti e in lieve frenata nello scorso weekend i salentini saranno di scena sul campo di una forti saltamura che ha riavviato il motore con il ritorno di Maurelli in panchina e vuole confermare di poter essere protagonista al vertice dopo il successo di Gallipoli trasferta a Otranto contro un avversario che ha perso negli ultimi 180 minuti per i Molfettesi di Renato Bartoli bloccati in casa nell'ultimo turno dal Barletta di Massimo Gallo Barletta 1922 che va invece a caccia della prima vittoria ed è chiamata a cercare i tre punti nella sfida interna contro il Sansevero formazione che nell'ultimo turno si è schiodata da quota zero grazie al successo sull'Atletico Vieste l'altra metà della città della disfida, l'Audace, è invece chiamata a dimenticare il bruciante K.O. Casalingo contro il Martina, maturato tra le polemiche sarà breve trasferta al Diliddo per gli uomini di Beppe Iannone di fronte in uno dei derby della BAT un'unione calcio Biceglia ancora imbattuta e a 5 punti uno in meno di Terrone e Sochi sfida tra due squadre in salute come quella che vedrà la Vigor Trani a punteggio pieno nello scorso turno grazie all'1-0 al San Marco sul campo del team Ortanova due compagini a quota 4, entrambe a caccia di certezze per guardare oltre la salvezza Atletico Vieste e San Marco invece hanno una missione in comune muovere la classifica ferma da inizio stagione dovranno superarla contro avversari complicati deghi calcio in trasferta per i garganici corato a domicilio per la formazione della capitanata tutti in campo alle 15.30 di domenica fa eccezione Martina Gallipoli al Tursi il fischio d'inizio in calendario alle 16 10.30 di domenica